E' arrivata l'ora di trollare i fan Adesso andremo su Skype Metteremo due fan a parlare tra di loro E poi niente, fine Ho chiesto su Instagram di inviarmi alcuni numeri E diciamo che me ne avete inviati tipo Troppi e niente Io direi di iniziare subito No aspetta No 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 regà Pronto 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 Dai cribbio Pronto Veramente No non si credo Lei ha capito che quello è simile Trazzi No 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 non pensano che era quello è simile Cioè fatto simile No io sono simile No vabbè Sono tre ragazzi Ma perché stai aggiungendo persone a caso? Perché sono tutte loro Le sto chiamando tutte insieme Pronto? Pronto eh Pronto 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 E cosa ti dico? Vieni Via Non bella segreteria telefonica di Ma sto da sola Non mi sentono Ditto si è che non mi sentono C'è il microfono questo è mutato Vabbè Pronto 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 a buttare la pasta Morti Andrà Quell'altra Pronto Quella che ti c'è a parlare Murella Pronto No ha attaccato l'ailander Si stanno chiamando Mi hai chiamato tu? Sono tutta volta desastabilizzate Sono in quattro Non ti ho parlato Appunto io non lo so Ma che cazzo Pronto Mi hai chiamato tu? Morite Calù Sì Oddio 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 Stai in Civi Sì Civi No Pronto Stanno in cinque Chi sei? Ma tu stai per la sala su in cinque Lei è in cinque Sì Civi Sì Civi Ormai sono migliore amica Ciao Non ho capito niente Non ho capito niente Mi hai chiamato il quattro Ti chiamate? No Non sono sentita Non sento Non ho ritardato Cosa? Non si sento niente Pronto? Non ho capito Non ho capito Chi sono? Sì No Chi Chi? Chi? Vabbè sta Collega a tutte Voi non potete vedere lo schermo Ma ci sono tipo 47 chiamati Sì Non vediamo subito un compagno Pronto Pronto Ciao Pronto 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 Sì Ma cosa verano? Muhapartessi Tu hai chiamato? Chi è che sei? Io ti chiamavo Vole fai? Sì 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 Persone urlano Svivi a caso No 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 Con quale faccia Cioè io mi dobbiamo immaginare Sono se faccia scherzadissima No Pronto 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 Abbiamo distruttato un'amicizia Io ti sto chiamando Proprio non mi calcolavi, c'è nel senso che avevo mandato il numero. Pronto? 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 È sempre quella che è rimasta! Pronto? 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 Sì, eh! Oh mio Dio! 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 No, non ci posso credere! Ma perché? Ciao! Sì, ciao! Sì, ciao! Sì, ciao! Sì, ciao! Sì, ciao! Eh, io credo delle voci, ma non so cosa sia! Mi spiegate? Ma io credo che, cioè, stia chiamando tutte insieme! Credo che stia chiamata! Bomber! Eh, infatti! Io credo che siamo scherzi! Eh, appunto, secondo me, in trova dove ci sta facendo! Sono arrivata presto, ma non so io! A me viene, a me viene fuori un numero privato, a voi? Eh sì, di sicuro! C'è alla fine! Regà, però non mi ho detto che ha mai troll! Eh! Eh! Eh, no! Non si chiama niente! È il troll! Regà, vi sto mettendo tipo in dieci in chiamata! E tutti quanti pronto? Io ho pronto e poi c'era qualcosa! Io rispondendo... No, a me hanno chiamato una volta, risposto, mi è andata... Tipo, mando un messaggio! Tipo, scegli il numero uno! A me è messo la prima e non sto capendo niente! Ero per il video! No, te l'avevi, esatto! Sì, se l'avevi, esatto! Sì, se l'avevi il video! Sì, se l'avevi il video! Bra! Sì! Che casino! Non si capirà nulla! No, se capisce! No, se capisce, se capisce! Oh, buono, regà! Mi mando un bacio! Grazie! Avete capito! Soltanto voi, che era un troll! Tutto il resto... Sì! Sì, sì! Anche io! Va bene! Ciao! Vi mando un bacio! Ciao, ragazze! Ciao, ciao, ciao! Ciao! Mamma mia, regà, sto troll è mega riuscito! Cioè, a parte che alla fine ci hanno sgamato, però a parte che mi sa proprio che devo togliere la storia, perché sennò la gente continua ad inviarmi il numero! Comunque spero che questo video vi sia piaciuto Se volete altri troll così su skype Per esempio dove chiamiamo hotel che rispondono O gente a casa tipo youtuber O nostri amici Fatelo già sapere sotto nei commenti E niente sto parlando come parla Laura Ciao Io vi saluto Chiudo io Bubu Senti Senti